ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della material energy 27 sono in compagnia di visse come t7 no non è già 40 misate ma 33 da 5 da 6 vanno gli episodi di colpa che hanno vero erano 4 questa è la 4 la nox e la 3 non siamo la 4 scusa quella che c'è adesso nella 5 ma andiamo ragazzi allora ci siamo visti un paio di cosette su quanto riguarda le armature della metallurgica che ci interessava spazio matura che armi quindi più o meno tutti tutto il resto abbiamo visto un paio di armi che sono molto buone e solo che alcune non potevano craftarle perché non abbiamo lingotti tipo un paio di armature troppo figli che danno dei bonus troppo ancora più figli esatto e allora visto che abbiamo un bel po di lingotti ho deciso di fare i vulcanite l'armatura in vulcanite e tutta l'armatura in sanguinite che ce la facciamo a fare io andato sto cercando di craftare gli armostand ma non posso Ulisti perché non mi crafta gli armostand nemmeno a me lo fa lo sai penso che siano bugati nel senso che non te li fa craftare forse no come no ah comunque vorrei far notare una cosa ragazzi 1126 questo è arrivato alla fine lui manca quanto che cosa 1126 manca ah no bellissimo ma tutte le farmostand alla massima potenza quindi fa vedere qui eh beh sì penso no lui si è ficata ok altro fatto che abbiamo un sacco di energia che ormai è tutto intassato pure i pannelli solari di fuori stanno lavorando al massimo eh sì ma abbiamo troppa roba eh è giusto ok è tutto proprio fermo allora abbiamo anche la viroxerese però la viroxerese non ci serve allora la vulcanite iniziamo a fare l'armatura? eh dai tu fai quella in vulcanite io mi faccio quella in sanguinite perché fa frigo ok vabbè ma sai perché in vulcanite? facciamola in sanguinite poi quella vulcanite e quella per andare nel nether eh me la teniamo giustamente perché la vulcanite ragazzi cosa succede? eh leva il danno 25% di danno da fuoco ogni pezzettino di armatura che avete quindi in caso di caso se avete l'armatura completa che succede? non avete più danno da fuoco bam esatto mentre quella di sanguinite in teoria quando venite colpiti vi restituisce della vita cioè assorbe vita quando vi colpisce ok ma non è che l'armo stand lo fa fare qui? nel senso che lo fa fare nella nei forse boh un gatto a caso può darsi so solo che ci serve una cesta per l'armatura dato che non va eh aspetta mi serve una crafting ah magari il craft è diverso e non lo sappiamo non si vede perché la nei è buggata no vabbè non penso non te la fa vedere no ah vuoi provare qui no non te la fa prendere proprio eh quello che vedi che strano che è no si vede che non lo fa craftare proprio lui il creatore ma tu lo sai che non abbiamo una cesta ehm xander per favore abbiamo quante ne vuoi di cesta dove? c'è ragione non ce l'abbiamo la senso non abbiamo cesta sto prendendo il carrello fatto 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 ah lascia lascia devo farlo qua mettiamolo qua mezzo ok mettiamoci tutte le armature fighe vai spam allora io ce l'ho già la sanguinita quindi allora oltre a questo allora tu prendi la sanguinita anche se hai un pezzo di vulcanita io ti lascio il pezzo di vulcanita perché potrebbe essere utile in futuro guarda sei un Ironman adesso oh altro Ironman ragazzi siamo due Ironman e te l'avevi persa la tramatura è vero perderemo il mondo avevi perso la motore sanguinita allora una cosa importante che abbiamo fatto è anche l'Armordine's World che ci dà heal e c'era anche l'altra spada esatto l'altra che non mi ricordo come si chiama aspetta che te lo dico era la credo una calendrite la calendrite con la k giusto abbiamo tipo 16 17 pezzettini che però dobbiamo mettere a macerare quindi aspetta dammi un secondo che ne mangio ragazzi abbiamo l'Armordine's World quando picchiamo il nemico ci curiamo esatto pulisse curami eh non so che penso non funziona e io c'ho anche quello del wither quello del wither funziona lo sai che è funzionato però ci pensi fa il wither al wither sarebbe un troll nooo è vero fa il wither al wither il wither è un iterato è un troll mi vedete in mano con il libro delle torrette penso ce l'abbiamo lì ce l'ha in mano no l'ho lasciato a diventare però perché stavamo studiando una torretta che ci poteva aiutare a fare questa nuova avventura che voi non conoscete che adesso vi facciamo vedere e in effetti sai che ce l'abbiamo un paio di robaccio possiamo farcelo c'è ma dispenser fence giusto e obsidian abbiamo tutto ho pensato che è ossidiana ho pensato che è ossidiana ossidiana e dispenser giusto ok dispenser ok ecco li qua ce ne avevamo giusto un paio giusto per iniziare poi diciamo le wither e wither skeleton quanti ne vuoi fare due o tre possiamo spawnare ma fanne più possibile perché wither che ci fa con wither quanti eh devo spawnarlo aspetta la torretta per farla si fa con dove sta ossidiana nether fence dispenser si si ho già preso tutto ok è già tutto pronto io sinceramente io metterei a cuocere sti calendriti non esce la roba da dietro lo devo mettere arancione dietro giustamente allora io giustamente prenderei ok dove ho la calendrite abbiamo la calendrite come hai fatto ah si l'ho già fatto ho già fatto anch'io non c'è sta l'ho fatta tu dove era la mia spada di calendrite uno e due io ho tre spade d'inventario fai tu zero che figata ragazzi quando ittiamo ci rigeneriamo e ci curiamo esatto e io direi facciamo così inizialmente allora inizialmente dobbiamo colpirlo con l'arco quindi prendi un paio di frecce prendi metterla frecce e dobbiamo prendici anche un arco colpirlo con l'arco eh all'inizio si tu vuoi scontrarti col uiter adesso si ok qualcuno vuoi andare io volevo andare a esplorare la nuova zona no no dopo abbiamo trovato la nuova zona che in effetti avevo detto a xander che non abbiamo mai esplorato che è la mesa però no noi facciamo prima il wither facciamo il wither poi andiamo a esplorare lasciamo la roba che ci interessa qui dentro non si sa mai e tu aspetta tu sei convinto che noi riusciremo a uccidere un wither? perché no ok ok io ho lasciato le robe importante ho tutto il tutta la roba importante l'ho lasciata qua quindi possiamo anche andare dice pulisse eh giustamente ho già fatto l'ascensore giusto per me essere figo eh vedi eh arrow quante frecce abbiamo? siamo 51 mi basteranno non so io ne sono 32 e prendi l'arco io ho un eh l'arco si aveva quello piccolino c'ho un arco con unbreaking 1 gatlin 1 gatlin 1 forse è meglio scusami io non ti trovo ah beh facciamo un ambil abbiamo un ambil a spazio secondo che mo ci facciamo qualche upgrade ah dici che riusciamo se ripariamo l'arco tipo si può fare ehm quanti archi aspettano andare giù devo andare per forza però io c'ero io tutti ce l'hai eh che c'è power c'è uno un breaking flame e l'altro power è un breaking dammi un breaking e power diciamo così però siamo 15 livelli però arrivo subito aspetta rander ciao sto registrando sono una persona orrenda però sto parlando anche mutato come un idiota quindi ciao ma per paura allora guarda io sto unendo questi due archi vabbè mo li uniamo ma tu come fai come fai ad avere livelli io ho un livello tristissimo ah mi è uscito un breaking 2 power 1 gatlin 1 gatlin 1 bam ok io c'ho 19 passami l'altro arco che facciamo tutto quanti livelli hai adesso 19 tieni ripara questo va riparalo aspetta riparami narco un breaking no devo fare cosa al contrario ok no 22 livelli non ce la faccio devo riparare perché a me sono 13 me ne chiedeva no perché ho fatto al contrario ora c'è anche gatlin un breaking 1 flame 1 tieni guarda tutto mi brucio tutto voglio bruciare la gente beh ma non è riparato no lo riparato oh riparato insieme basta allora ma stai insieme adesso cacchio di niente non è riparato 13 livelli mo le ho sprecate ti giuro ti giuro ti è bugato ti è bugato tu ti è bugato no che mi ha trollato ti è bugato ah probabilmente non ce la faceva vabbè tieni il mio arco per il momento sai tieni questo e tu mi diri scusa tranquillo xander tranquillo canon che cosa fa gatlin a posto ne ho un paio cosa fa gatlin dovrebbe spammare le frecce in teoria eh ne ho solo una che ne so boh gatlin c'è scritto quindi boh è bello matter cannon ok abbiamo un po' tre ci guarda tre colpi ciò tieni l'arco le frecce ah capito il furbet e io c'ho le cose belle ok mi serve un attimo un cable ci abbiamo un cable ci sono tutto cable porca vacca vedete a far il cecchino con l'arco è molto più classico old style che stai facendo con le mie chest ok sto riempiando la mia piccola amica mi serve energia quindi sai cosa dobbiamo fare eh dobbiamo anche farci il coso per l'armi come si chiama l'energy non so di cosa farli perché è l'energy infuser ah giustamente giustamente non esiste ma io ho l'esplorato l'amazona l'amazona come si chiama l'energy non è l'energy infuser comunque fuser eccolo qua ok energetic infuser giustamente ok mi serve sta roba no xander redstone non abbiamo redstone vai trovami un po' non abbiamo redstone dove la prendo la redstone adesso che nello x giù di sotto c'era qui 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 c'è un pezzettino di redstone qui sotto ora scendiamo ci appendiamo ciao io vengo in pa porca vacca di merda armi siamo usiamo le scuse ma non fa molto danno quanto danno fa portato fa 7 7 danno donna mia non fa danno amico scherzo rotto le palle esatto non ho non ho e non ho un piccone prendi un favore vai prendi un pezzettino e saliamo poi di axane creeper tanto passiamo sander andiamo c'è un'armatura gesù immortals aspetta ma qual è che da regeneration ah questa è da ieri questa è di generale perfetto eh ok va beh tanto entrambi io sono raccogliere ok no beh torna torna trancise per la roba scelpe via un po' poi non so se effettivamente abbiamo tutta la roba sai che possiamo anche fare energetic infuser ma smetti ti fai cose infuser lì ah ma ce la faccio se no vai portami a resto fai la resto fai la resto fai la resto bella sto cisellando red hey mi fai dall'area mi fai cisellare ho blocco buttano dentro no trasformano direttamente polverina vai sta dentro ok mi siamo due di questi e mi serve poi e infuser ok aspetta che est un trasmission coil trasmission non è reception xan abbiamo un led come no 84 più polveri più lingotti tutto c'è lo metto a cuocere sotto ah non lo metto nel filtro ovviamente non abbiamo un led probabilmente cotto già sai abbiamo due lingotti cotti ti serve altro eh sì metto a cuocere va ok sì metto a cuocere queste polveri nel mentre va che bello adesso che ci siamo metto a polverizzare tutti gli ore allora l'iron eh metti ah ma sto facendo tutto in automatico stai facendo sì 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 ok io c'erano altre due perfetto ho fatto l'infuser anche perché è giustamente mi serve sì assolutamente assolutamente ah fatto l'infuser perfetto no l'iron il copper l'ho messo altro copper altro tin silver led tutto metto ok abbiamo bisogno di dare l'energia ragazzi lo metterei sinceramente qua sopra perché fa più figo ottimo la velocità con cui si è riempito mi ha spaventato abbastanza perché che è successo tipo ha fatto v sarei riempito con 100.000 non puoi immaginare quanta energia c'è stata in giro per i circuiti lascia perdere ha svuotato tutto il power qui dentro nel coso giustamente ok ho già tutto io possiamo andare dove stai fammi vedere che stai in pc stai ok caricato bravo perfetto anzi aspetta sai cosa posso fare no però giustamente no a proposito a questo punto finiamoci la quest facciamoci la quest del compression il 125 rf lì se non ha senso ok aspetta facciamoci la quest del compression sodass tanto abbiamo un fottino abbiamo oh ulisse eh dimmi dobbiamo aprire una farmacia io e te fai perché eh vai solo questo aspetta mi serve l'ho lasciato qui dentro ci chiede di aprire una farmacia perché side quest oddio perché ah giustamente chiamo perché ci dice la farmacia dove è la farmacia scusami dice con conoscenze avanzate sono in grado di creare prodotti chimici che sono molto più utili delle pozioni in questo caso dice listidine